Tu chiedi, Hermes Consumer risponde, è arrivato a Calderara di Reno, qui in provincia di Bologna, è una zona molto industriale, alcune fabbriche hanno dei problemi, altre meno. Questo si ripercuote sui loro lavoratori, che sono anche dei consumatori. Chi ha lo stipendio assicurato non ha paura del futuro, gli altri hanno qualche problema, siamo andati a chiedere. La crisi c'è e si tocca, si vede e si nota. Cerchiamo comunque di andare incontro, di fare il più offerte possibile, andare incontro alla gente. C'è meno di lavorare, lavori meno. Esatto, è indubbio che in questo periodo ci va ad analizzare un po' di più la tua spesa corrente della settimana. C'è molto anche.